Un evento che è atteso non solo dalla provincia, non solo dalla regione Piemonte, ma mi sentirei da dire veramente da un po' da tutta Europa, perché in effetti quest'anno sarà il 17 di dicembre, ossia il secondo giovedì antecedente al Natale, veramente Carrù diventa internazionale. I primi arrivi già risalgono alle prime ore dell'alba e poi durante tutta la giornata avremo turisti, abbiamo buongustai, abbiamo intenditori, ma soprattutto abbiamo questi splendidi esemplari di razza bovina piemontese e il nostro buo in modo particolare, che si presenteranno quindi al giudizio di questa giuria molto competente e soprattutto integerrima, che incoronerà Sua Maestà e il Bue e quindi quest'anno, edizione centocinquesima, avremo questa nuova maestà che sarà sicuramente con le stesse prerogative, le stesse caratteristiche in questi ultimi buoi che sono stati incoronati nelle edizioni precedenti. La Fiera Nazionale del Buegrasso di Carrù è un evento cool, anzi è tra i più cool di tutto il mondo, con estremo orgoglio e soprattutto anche con molto impegno perché essere cool significa che ogni anno dobbiamo migliorarci, dobbiamo rendere sempre più attraente questa grande nostra fiera. Gustose emozioni a Carrù!